Mi viene da ridere, è da due anni che bussa alla Lega addirittura, però mi fa sorridere. Io sono felice se corre di là, quello che mi rende preoccupazione è il fatto in questo caso del concetto che Bonaccini ha di bravo imprenditore, di una persona che gestisce bene i suoi dipendenti perché se mandare a casa con un sms per lui è buon lavoro, anche questo sicuramente chi vota lo prenderà in nota. Ci dice già qual è il programma? No, non lo sappiamo ancora qual è il programma, posso dire che lunedì mattina però sono con Toti alla presentazione della lista, un'altra lista in mio appoggio che è quella del partito di Toti e del Popolo della Famiglia.